L'ultima persona che mi aspettavo qui Direi, allora, qui ci sono ben tre tesori Oh, attenzione Allora, uno è qua Eh, l'orologio stravagante Che fai? Che poi? Dove li deposita tutti? Sì, sì, quando li trasporto Dove ce li ha tutti questi tesori? Una pietra litografica ci Grande Giove Non so che cosa sia Facciamo la parte degli ignoranti Allora, ce ne sono No, alle mie spalle C'è la chiave Ho la chiave Ho quattro livelli che mi sto portando appresso La chiave Un orologio da taschino Mi resta l'ultimo A destra Guarda là Oh, gettone d'argento Ah, il gettone giro d'argento Però mi serveva ben poco Oh C'è un'altra cosa Ah, devo fare così Fida litografica D C e D abbiamo trovato Ah, le dobbiamo mettere qua F Le trovate tutte Allora Direi che questa Allora Seleziona Ok Ruota Questa la metto qua Questa mi piace qua Semplice Semplice Se capivo che si spostavano prima le pietre Avemmo fatto Raton Ah, non mi dà niente Mannaggia L'accoltellavo Se lo sapevo Ma beh Un ratto in meno Sul pianeta Un ratto in meno Sul gioco Bene Devo trovare Ashley Ah, non c'è una missione per uccidere i ratti Ah, ma quella già l'ho fatta Non ce n'è un'altra Dammene un'altra uguale Dai, già sono a buon punto Ne ho uccisi due Proiettili Aspetta Quello si muove ancora qualcosa Qua Tesori Non ce ne sono Però c'è una scritta Allora Illuminados 3 Punto 2 O capitolo 3 Versetto 2 Interpretate come volete Ascolta il segnale dell'eco Aspetta Ecco Ecco Fermi Ce l'ho Ce l'ho Prova 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 2 3 1 Ascolta il segnale dell'eco attraverso le montagne. Le rocce diventano viaia e le nura del castello si fratturmano. Guarda all'ombra, cremisi del cielo notturno. Un fiume di sangue e vento deturba il male. Sacrifica la tua vita e il sangue del tuo nemico. Fai a menta per i tuoi peccati. Ci stava. Ci stava. Mo so stonato le orecchie perché nei cuffi si sentiva più alto, però già stava. Vabbè, passata questa piccola parentesi di puro divertimento così, ok, qui non c'è niente, possiamo andare verso la nostra destinazione. Oh, grandioso. Quello non mi pareva un piccolo ratto. Questo deve essere la mamma e il padre del ratto. Non volevo ucciderli. Perdonami. Era così. Pensavo che facesse parte della missione. Comprendi anche tu. Ho bisogno delle ricompense per aumentare il livello. Oh, piccola chiave. Per aumentare il livello delle mie armi. Ti prego. Ratto. Ragà ratto. Che larmia che si sente. Passata. No! Porca trottola! Ho selezionato l'arma sbagliata! Oh! È per la miseria! Tanta Cleopatra! Era veloce. L'unica cosa era... Ricaricata. Ricaricata. Ma io c'ho pure questo. Ma l'ho dimenticata. Vabbè. Tesori? Non tesori. Cosa da prendere? Nulla. Rattoon? Non rattoon. Non c'è nulla. Comunque non erano parenti dei rotti, eh. Fortunatamente. Mettiamo, prendiamo questo. Oh! Tu così mi compari. Faccio così? Porco canno! E che è sto coltello? Fatto di adamantio! A proposito di coltello, scusami. L'ho fatta venire in mente una cosa. Mi raccomando, trattalo con cura, amico. Vedi di non rimanerci secco. Agiettatore. Uh, non ho riparato... Benvenuto! Uh, che vuoi comprare? Non ho riparato il ciopatto! Vabbè. Può resistere ancora. Ciao. Ehm... Listo? Poi se ho trovato la pesce d'acqua dolce nutriente, da sapere, ripristina la salute. C'è il pesce che ripristina la salute. Vabbè. Ah, ma non era il corvo che parlava. Pensavo fosse il corvo. Non è vero. Beh, però di solito quando uccide i corvi mi dà moneta. Stavolta è solo morto e basta. Mi spiace, corvo. Pensavo a mettere questa moneta come tutte le altre volte. Stavolta ma fa... Mi stavolta aspettando. Oh. Il mo' Oh, ma chi è che altro spara ancora? Ma dov'è? Ah, guarda dove sono. Ah, no, no, l'ho beccato. Vabbè. Va bene la mira, però. Oh, allora. Questo tiro un po'. Non tiro un po'. Chi è? Yeah! Oh. E muori. Maledetto. Allora, vediamo prima qua che... Allora, scusa. Io qua... Alle mie spalle. C'è un piccolo tesoro qua. Dove sta? Dove sta? Sarà sopra? Uh. Oh. Questo tesoro? No, era giù. Andiamo a vedere. È giù. Mi dice che è qui. No, mi dice che è qui. 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 Vediamo qualcosa. Non siete da nulla. Allora, è qua dentro. Vediamo. Andiamo a vedere. Questo è qua. No. Chi sta? Non lo riesco a vedere. Dove sta? Sta qua dentro. Ah, capito. Basta. Andiamo. Se lo trovo bene, se no, lo trovo pazienza. Allora. Andiamo. Boh, non lo so dov'è. Si è aperto. Giù? Sì. Boh. Ma è bene. Boh. Non hai pazienza. Non lo so. 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 Amico mio. Amico mio. Ah, eccolo dov'era, eh. Ah, questo ho mancato. Eccolo dov'era il tesoro. Tesoro. Come ti apro? Beh, sono arrivato fino qua per bloccarmi. Oh, urcocan. Cado così? Ti presta... Vaffan bagno. Aspetta, faccio pure il colpo di cara dei kid. Questo non si chiama il colpo della gru. Non si chiama il colpo di fai tu. Come lo porta qui? Sono avanti al tesoro. E dove? Ma dove sto? Andiamo un po' qui. Questo qua? Yes. Ah, eccola la leva. Ho visto la leva. Ho visto la leva. Però prima... Eccola là. Andiamo qua dentro. Qui dovrei aver eliminato tutti o quasi. Salgo qui come se fosse un ragnetto. Poi tiro questo qua giù. Che è bene aprire quello che sta lì. A te ti elimino già così dopo non mi rompi le scatole. Oh, e tu? Dove stavo a passare? Ah, ma potevano passare. Ma tu guarda. E che li sparavo così, tranquillamente. Guarda un po'. Vabbè. Ma non ha aperto questa. Oh. Ma no. Pensavo che si è aperto quella. Mi faccio molto il giro. Non ha aperto neanche quella. Gira che rigira. Gira che ti rigira. Arriviamo dalla leva. Non ha aperto neanche questa. Ah, già è qua. Così. No. Ma che è? Qualcosa non quadra. Scusa. Ah. Ok. E apre questo. Questa apre questa. Ok. E andiamo su. Poi io vado qua. Così. Non mi butto giù. E questa? Con cosa l'apro? Ah, questa. Mi ha aperto questa. Vedete? Sì. Ok. Questa mi apre. Non si apre. Oh, ma caco. Ah. Corpo. Corpo di mille balene. Ah. Ma sta imbriacando. E tutto è seleve. No. Vabbè. Quel tesoro bascia l'anima sua. Ah, vaffanbai. E ti accende di nuovo. Tu. Hai bisogno della Magnum. State diventando una vera lottura di coglioni. E' inutile. Così spreco i colpi. Ah. E quindi? E quindi che facciamo? Non ho capito. Ci buttiamo. Ah no. Di là. Ci buttiamo giù di qua. Ok. Arrivo di qua. Ho sentito tutto il colpo. Ok. Ah, ho sprecato un colpo. Ah, baracate. Allora. Di qua non posso andare. Però di là posso andare. E vado di qua. Apro quest'altra leva qui. Ah. Tutto un gioco di leve. Ho capito. Oh. La granata. Vado giù. Oh. Stai tranquillo. Chi si agita così tanto? Ok. Ma fatta arriva fino qua per... Ok. Ma fatta arriva fino qua per stare in gabbia. Vabbè. Risaliamo. Di qua. Sì. Ah. Sì. Il cannone. Il cannone. Bang bang. Bang bang. C'era un motivo per fare tutto avanti e indietro allora. C'è qualche tesoro qua. Sì. Ma dà... Ma dove? Perché? Ma dove parli? Sarà qua so... Ah. Muerte. Oh. Stai. Ah. Fai un bagno pure a te. Ah. Ok. Ah. Oh. Io ho bisogno un po' di... Di energie. Mangiapreci e pesce. Tutto mangi e pesce. E le forze sono tornate. Ma io posso fare qualche colpo forse. Tutte munizioni che non mi servono. Vabbè. Oh. Ah. Sì. 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 Ve, 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 ho visto. Ho visto il nostro chiamo a munizioni. Andiamo su. Fariamo un paio di colpi in petto al gigante. Dov'è? Adios, stronzo di merda. Esì. Esì. Vinci. Yes E li eliminati tutti Non me la posso portare presto con una fune Grazie